Il piano più grande del sistema solare, del canio più profondo e di condizioni meteorologiche e di temperatura estreme, Marte è comunque un pianeta affascinante. È il quarto pianeta dal Sole e dista mediamente 229 milioni di chilometri. Ha un diametro di poco più della metà di quello terrestre, ossia 6790 chilometri. E per questo la gravità marziana è uguale ad un terzo di quella terrestre. L'atmosfera è estremamente sottile e composta da nitride carbonica per il 96%, con quantità minori di altri elementi come arco, azoto e favore acqueo. Quella terrestre, per avere un'idea, è 100 volte più densa. Le ricerche comunque hanno portato alcuni scienziati a ipotizzare che all'inizio della sua storia l'atmosfera era molto più densa di oggi e che sia stata strappata soprattutto dal vento solare. La durata del giorno è molto simile a quella terrestre, in quanto è di 24 ore e 37 minuti. L'insieme di tutte queste condizioni fa sì che la temperatura media sia di meno 63 gradi centigradi rispetto ai 14 gradi centigradi della Terra. Anche se non tutti gli scienziati che studiano il pianeta sono d'accordo, per il momento la maggior parte di loro sostiene che all'inizio della sua storia Marte aveva fiumi e laghi e forse anche un oceano in prossimità del polo nord. Quel che è certo è che passò lunghe ere con enormi emissioni di lave molto liquide che potrebbero avere scavato canali simili ai fiumi e dunque non è così semplice distinguere gli uni dagli altri. Se Marte ebbe davvero un'atmosfera più densa rispetto ad oggi di acqua liquida in superficie, non è da escludere che tali condizioni abbiano permesso l'emergere della vita anche su quel pianeta, la quale successivamente potrebbe avere trovato nicchie dove sopravvivere all'interno della costa marziana e proseguire il suo sgrupo. L'esistenza o meno di vita attuale è un dibattito aperto e forse saranno proprio le prossime missioni, a partire da Perseverance a dirci se ci fu e se c'è ancora vita.